parte vede parigiagosti non è in marcatura giusta poi si ferma la aspetta gazzi ma l'errore è fatale grande ci crede e con la punta ma con grande astuzia batte il 2 a 1 è proprio gratis dipendente come diceva del neri errore di agostini proprio di come se lasciasse